buongiorno ragazzi bentornati benvenuti in un nuovo vlog stamattina ho iniziato in modo un po' smr e oggi volevo fare questo vlog insieme a voi speriamo di riuscire a fare tutte le cose che voglio effettivamente fare mi sono messa alla sveglia sono svegliata presto infatti sono le otto e mezza per me è presto perché diciamo che calcolando che vado a dormire verso le tre ho dormito cinque ore quindi è presto in quel senso e appunto adesso mi sono fatta la mia colazione praticamente sto seguendo un piano alimentare insieme a un nutrizionista in realtà sono molto brava perché mi piace la dieta mi piace quello che mi hanno dato a mangiare cioè ne abbiamo parlato tanto sta andando bene quindi no non si vede il foglio qua dietro ho tutta la mia lista lunedì martedì almeno so sempre cosa fare mi preparo tutto c'è problema quindi sì ottima cosa nutrizionista il mio problema è che questi cereali se non li mangi subito diventano carta velina oggi 19 di aprile manca esattamente tre giorni al mio compleanno io odio il mio compleanno segreto dei segreti in più vabbè c'è il secondo compleanno in pandemia quindi diciamo che non è così posso fare chissà che quindi quest'anno mi sono sbizzarrita sulla torta back to 12 praticamente poi ve la farò vedere su instagram quindi seguitemi su instagram perché voglio fare una bella foto con la torta che detta così sembra una pollia ma poi capirete qui ho il mio compagno di vita a computer così prima di iniziare a fare tutte le cose che devo fare mi guardo una bella puntata dei run bts diciamo che me ne sono succhiate queste puntate perché sono già arrivata al pigiama party che è la quasi la centesima puntata 97 per chi non lo sapesse sono di recente diventata una super fan del mondo kpop corea eccetera tant'è che il mio ultimo video prima di questo era proprio la reazione gruppi kpop che mi avete consigliato mi penso tantissimo di quel video perché realmente io avevo conosciuto questa realtà un giorno prima di registrarlo tant'è che per la vergogna ho dovuto mettere il video in privato quindi non lo troverete sul canale ma presto arriveranno tanti video a tema sicuramente e quindi sembro una pazza che parla sostanzialmente veramente mi vergogno di me stessa tant'è che ho giudicato non male malissimo i bts quando adesso sono letteralmente my whole life come se fossero parte integrante del mio corpo praticamente li amo nello stesso modo anche perché giuro quando ho girato quel video aspettate qua mangio sono davvero una mia carta continuavo a dire mamma mia quanto è bello jimin sì il mio preferito è sicuramente jimin ok guardi un run bts guardi la seconda la terza puntata esibizioni su esibizioni perché ho recuperato tutto chiedimi ora chi è il mio preferito tra l'altro mi avevo detta questa volta ok niente ossessioni prendila in modo molto filosofico cantano ballano ci piacciono non esagerare insomma così al secondo giorno già così raga jk jongo jong wap come vogliate pronunciare è totale invece più guardo asciuga sento del feeling proprio a livello personale perché è la mia versione a livello maschile lo adoro lo amo prometto che cercherò di parlarvi il meno possibile di queste cose in questo vlog quindi mi vedo questa puntata 36 minuti vabbè mi vedo metà di questa puntata e poi devo praticamente farmi le mani perché ieri ho fatto questa e oggi devo fare questa che come vedete c'è una leggera differenza forse non si vedrà niente eccola e devo rifare tutto in realtà ho fatto il gel ma è un effetto molto naturale solo che io stupida inizio sempre dalla mano che più mi aggrada quindi mi rimane sempre quella difficile da fare tra l'altro leggerli con il tuo titolo in inglese mi sta facendo fare un ripassino eccolo amore ma raga quanto è bello ora sono alla mia postazione unghie così continuo a fare l'altra manina ovviamente uso tutti i prodotti di passione unghie perché sono quelli più facili da riferire il colore che vado a usare è questo questo qui è il builder in realtà non mi sono trovata benissimo ieri però almeno è autolivellante quindi quindi sia più semplice dopodiché let's go tanto dovrò fare uno strato veramente sottile ho visto solo le unghie corte allora forse se vi metto così riuscite a vedere qualcosa ma credo sia sfocato io odio farmi la mano sinistra veramente penso che se potessi tagliarla e farmela staccata ha proprio come la faccio niente niente da fare non si può fare possibile che l'indice mi sia già cresciuto da quando l'ho limato ieri molto bene anche voi avete un dito che vi cresce più degli altri cioè un unghia più che un dito le cuticole le ho già fresate ieri quindi userò questa che è la mia nuova bestie che è la forbicina per le cuticole vedete voi le tagliate senza andare a togliere troppa parte quindi è giusto per pulire un po' no guys è troppo complicata sta cosa me lo dico ok ora preparatori io utilizzo il nail prep che è il deidratante che metto su tutta l'unghia e poi il binder solo nella parte dell'unghia naturale visto che io prima avevo ovviamente già il gel ho limato però un po' è rimasto quindi lo metto solo nella parte senza una volta che si è asciugato io vado a prendere il cool pink e col pennello mi faccio una passata a smalto sulle unghie giusto per creare una base poi io prima ero team unghie bombate mi piacevano tantissimo quando ero un po' più piccola adesso unghie più piatte tutta la vita ok non ti vedrò nulla però è steso smalto 30 secondi in the lamp proseguo anche con le altre vorrei mettere la musica ma poi ovviamente mi segnalano il video per copyright quindi niente boy with love no non è vero la mia pref di bts per ora attualmente è microcosmos the truth untold quella basata sulla leggenda in giapponese e ovviamente dynamite che è l'unica in inglese che riesco a cantare tutta allora sto facendo la bombatura è la parte più difficile da fare con l'altra mano preferirei fare la bombatura sull'unghia lunga piuttosto che corta però dai più o meno è venuta carina che poi le canzoni in giapponese perché sono più facili da cantare? non si sa forse perché si pronunciano meglio le parole fatto sta che tutte quelle in giapponese tipo anche film out già le imparate è assurdo ormai io madrelingua si sembra vero però vi giuro andatevi a sentire the truth untold dei bts e poi vi innamorerete anche voi comunque qui sta procedendo questa è la situazione delle prime d'unghie abbombate tra virgolette vedete c'è poco da fare in realtà e quindi continuo ci vediamo direttamente quando passiamo il colore che se no qua e taram queste sono le unghiette finite dai non veramente ragazzi pensavo venissero più più bruttine invece ci ho messo un po' perché ci ho messo un'oretta che per una mano così corta è tanto però dai questa e quest'altra vabbè questa mi piace sempre di più in generale mi piacciono più le dita di questa mano detto già ragazzi cioè si è fatto tardissimo già io non so come faccia a volare il tempo spuntino frutta fresca e frutta secca quindi credo vi mangerò una mini pera una prugna che io adoro e poi devo prendere la mia scorta di frutta secca l'unico struggle è pesare tutto quanto prima di mettermi a fare tutti i miei esercizi mi sono arrivate queste scarpine sono le converse run star hike in realtà ho preso un 40 che sarebbe un 6 inglese poi col pigiama lilla è stupendo l'unico problema è che non capisco come calzino cioè perché sembra col piede minuscolo nonostante sia un 40 c'è qualcosa che non non mi torna però sono molto comode quello quello si non lo so questi giorni ho provato così tante sneakers diverse ho ritirato fuori le mie triple S di Balenciaga che non usavo da un po' non lo so perché erano nascoste dietro me le ero totalmente dimenticate vabbè poi ho comprato il mio primo paio di Air Jordan alte ho pagato una fracca tant'è che il primo paio che ho comprato l'ho sbagliato infatti l'ho messo in vendita su Vinted se vi interessa anzi ve lo faccio anche vedere è ancora in scatolato perché ovviamente le ho prese su StockX che è questo sito che rivende le scarpe diciamo più ricercate vedete ho preso il 40 che è un UK 6 e 25.5 cm però sono piccole perché calzano proprio piccole Jordan One Eye OG che sono queste qua io le chiamo le panda che sono bianche e nere con il vellutino sono stupende ma sono piccole ho provato a metterle due volte infatti mi ha fatto una leggera pieghina qua però sono praticamente nuove cioè si vede benissimo anche da sotto le ho pagate troppo e le ho rimesse su Vinted a molto di meno quasi alla metà quindi se vi interessa le trovate lì vi lascio il mio account di Vinted nel box info qui sotto e queste sono quelle che mi sono invece ripresa che sono un 41 bianco nero senza la parte in velluto praticamente però sono stupende allora la mia macchinetta sta svalvolando totalmente cioè inizio una clip e non me la fa finire di riprendere si spegne da sola quindi l'unico modo per finire questo vlog è usare il telefono prima volta che vloggo con questo telefono nuovo tra virgolette quindi niente spero poi di essere capace di trasferire le clip sul computer perché ho sempre dei problemi in questo comunque si sono già fatte quasi le due io non so come sia possibile che il tempo voli così in fretta visto che devo prepararmi tutte le mie verdurine eccetera eccetera mi metto a fare questo così poi pranzo e mi alleno dopo sarò un po' più appesantita ma vabbè dettagli l'importante è farlo non importa a che ora non ci sono scuse questa è la mia nuova la mia nuova regola tanto un'ora al giorno si può fare poi neanche tutti i giorni tre volte a settimana quindi sì 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 entro l'anno prossimo devo perdere 20 kg e non sto scherzando ragazzi non sto scherzando detto ciò io oggi volevo anche fare la ricrescita vedete la decolorazione perché sto messa male comunque cioè non non si può andare in giro così il problema è che ancora i capelli puliti quindi la deco è sempre meglio farla con i capelli sporchi così detto in parole proprio povere il grasso che si forma sulla cute vi protegge un po' dall'aggressività della decolorazione però questo è il succo quindi sì sempre meglio farlo a capelli un po' più sporchi quindi aspetterò qualche altro giorno e semmai vi registrerò il video di come facciamo insieme il nuovo colore di capelli anche perché come vedete mi stanno tornando hanno un colore indefinito ancora è un misto tra rosino che è rimasto un po' più qui sotto e qui invece che si sono un po' più scaricati quindi non si sa bene che colore ho in testa però mi piace quindi dovrò rifare anche il colore lilla ormai sono in fissa con il lilla sui capelli quindi lo farò tanto c'è sempre tempo per tornare biondi quindi quindi sì poi sono colori appunto semipermanenti che con i vari lavaggi si vanno a togliere uh avevo detto che devo fare la chinoa adesso la sciacquo subito così la lascio un po' in ammollo in realtà avrei dovuto metterla ieri sera non mi sono scordata ovviamente e poi penso che mi farò qualche zucchina ci sono le zucchine sì qualche zucchina qualche carota vediamo ho appena accorto di una cosa orribile cioè che mi si è alzato un umbio ce l'ho fatta stamattina si è alzata boh cioè si è sollevato questo lembo boh non so quale sia il problema e mentre qui abbiamo Amaruf la Gwendix che se ne va e qua un bel temporale in arrivo praticamente sto cercando tutti i modi possibili ed immaginabili per procrastinare si dice procrastinare si dice così per rimandare il mio allenamento anche perché quando c'è questo tempo voglia di fare zero però devo devo farlo allora sto per iniziare il mio allenamento questa è la mia fantastica tenuta ginnica con la maglia di Harry Potter va bene ok e qui c'è il mio protocollo la mia cassa d'acqua dove in realtà mancano due bottiglie però vabbè pace insomma e Amarok non ha ancora capito che dovrebbe togliersi da quel tappetino ok ho appena finito l'allenamento le cuffiette non si scaricano mai comunque non so da quante ore ce l'ho su non sento più i rumori del mondo comunque sto facendo un po' di stretching ricordatevi che è sempre importante fare almeno 10 minuti prima e 10 minuti dopo quindi sto stirando bene la gamba che ogni volta quando finisco mi tirano sempre i glutei non so perché ma si vede che li lavoro tanto prima o poi avremo un risultato se spera tanto in tutto ciò c'è Isaac ogni tanto si avvicina devo finire di stiracchiarmi di stiracchiarmi di strecciarmi le spalle e le braccia e poi è finito anche oggi ho fatto quasi un'ora in realtà non è tanto importante cioè o meglio dipende da cosa volete fare ovviamente però l'importante è fare più volte a settimana anche poco tempo cioè un'ora per me va va più che bene e dopo mi butto in doccia non vedo l'ora ho appena finito di classificare tutte le lentine che mi sono arrivate da TDI tra l'altro se volete vi scrivo anche il mio codicino che potete usare non è sponsor semplicemente me l'hanno dato quindi ve lo dico e ho scritto il nome qua sotto la data di apertura ovviamente perché durano un anno tra l'altro io le ho prese graduate vi faccio vedere un paio indossato dovete sapere che io sono totalmente negata a mettermi ecco appunto a mettermi le lenti l'unica fortuna è che ho la stessa gradazione cioè mi manca 3,50 e 3,50 in entrambi gli occhi quindi left and right per me non è che valga molto tra l'altro sapete dove mi piacciono queste lenti a parte che si vede tantissimo la differenza cioè io ho un occhio marrone nocciola ok sono riuscita a metterla e vabbè la differenza penso sia palese così ah ci vedo vedete come copre bene il colore del vostro occhio sono molto buone veramente sembrano poi sono anche impalpabili io ho una sensibilità super all'occhio perché ho poca lacrimazione quindi le lenti molto spesso mi danno fastidio anche quelle più sottili anche quelle classiche normali quindi trovarle colorate sottili che non mi diano fastidio è assurdo cioè per me è tipo un sogno perché io adoro poter cambiare effettivamente il coro degli occhi anche non lo so volendo fare qualche make up particolare e sono molto felice che allo stesso tempo siano anche graduate questo colore tra l'altro mi piace molto è molto naturale adesso mi metto pure l'altro così vi faccio vedere tadaan allora continuo a ribadire che la vita è ingiusta che non mi abbia fatto magra e con gli occhi azzurri certo che poi avevo trovato qualche altra cosa per cui lamentarmi quindi vabbè tanto non siamo mai contenti giusto vi faccio vedere con la luce naturale cioè guardate io la trovo veramente molto carina allora mi sono vestita molto in fretta tanto vabbè ultimamente i miei outfit sono ovviamente tutti neri come sempre mi sono comprata un sacco di questi set di tutine che hanno il sopra il sotto vita alta così e ovviamente comodità ma con stile che devo fare dei giri tra cui andare a consegnare un pacchetto di vintage devo andare a comprare il pesce per stasera perché ieri siamo andate con mia madre a fare la spesa ma di domenica ovviamente non c'è il pesce fresco cioè non lo riforniscono quindi non c'era il mio amato calamaro che dovete sapere che io mangio tre pesci in croce quindi sì e poi ah in teoria dovrei portare delle cose da H&M ma penso lo farò nei prossimi giorni perché non c'ho voglia più che altro di caricarmi tutte le cose che noia che noia mi devo mettere mi devo mettere a cucinare il pesce però praticamente sono stata da H&M tanto che ho fatto tardissimo dovevo portare in realtà a cambiare delle cose ne sono uscita con altre vabbè cioè più cambiare devo fare dei resi che ho preso le cose online e niente mi hanno catturata perché avevano tutte cose nere e baggy style che sarebbero un po' over così e quindi ho detto vabbè dopo vi faccio vedere dai adesso mi devo cambiare così mi vado a pulire il calamaro perché io sono molto meticolosa nel pulire il pesce cioè il pesce ripeto ne mangio poco quindi nel pulire il calamaro e e niente quindi metto il pijaman che poi non vi ho più fatto vedere il mio nuovo amichetto che ho preso su amazon dei BT21 questo qui ovviamente ha il popazzetto il la mascottina di di John Woo infatti si chiama Cookie e mi fa scassare che ci sia quale immagine col pesetto è troppo carina questa versione con la confezione molto molto carina quando vi dico che mi avete persa vi dico che mi avete persa allora ragazzi vi metto un attimo lì diciamo che oggi ho parlato parecchio è proprio vero che quando la gente mi incontra ma in generale anche chi mi conosce dal vivo da tanti anni mi dicono sempre per quanto parli nei video non parli mai poi nella nella quotidianità è vero ragazzi è vero chissà bisognerebbe studiarlo in psicologia comunque questo è bellissimo amore faccelo dire faccio dare un bacio in bocca proprio di mia età allora vi faccio vedere molto quickly le cose che ho preso allora questa mega t-shirt che poi perché sono così grandi ed è la L cioè io la amo H&M perché fa le taglie giuste secondo me cioè questa è una L ma potrebbe essere tranquillamente un XL non so se il codice così prende comunque 15 euro è super carina perché è lunga io le metto sempre per evitare l'effetto troppo over sfatiamo sto mito ognuno si può vestire come gli pare sono io che mi faccio più problemi del resto del mondo probabilmente però ci penso prima di mettermi qualcosa effettivamente non so quindi quelle mi vesto come mi pare è sbagliatissimo perché veramente ognuno si dovrebbe vestire come meglio crede però io ci penso è più forte di me è inevitabile comunque io le metto molto spesso quando sono tanto larghe dentro i pantaloni davanti almeno non vi dà quell'effetto proprio bustone perché già mi vesto di nero tutto tutto over almeno no una parte la metto dentro comunque questa è super carina tra l'altro ho questa scritta qui con scritto have a lovely day con due sembrano i fiori che ho tatuati qua sul braccio poi questo che cos'è neanche mi ricordo più questa qui è sempre lo stesso stile super super swaggy che però è un vestito è una maglia vestito e l'ho vista subito appena sono entrata perché di solito le maglie vestito non sono così tanto lunghe ma sono sempre un po' più corte quindi questa è veramente cioè lunga lunga poi non ha gli spacchi alla fine quindi te la puoi mettere tranquillamente e anche questa 14,99 ve lo dico questa è la sagra del 14,99 e ho preso L così la posso mettere con una cintina perché mi stava bene anche la M però era un po' più così come effetto invece io con la cinta la metto e mi piace di più ecco lo stile poi allora questa è l'unica cosa che non ho provato perché l'ho trovata vicino alle cast ho detto troppo carina la voglio io sono super affascinata dalle camicette questa in particolar modo ha lo scollo un po' aperto quindi non arriva proprio chiusa all'ultimo bottone ed è di un tessuto tipo non è raso però avete presente la sensazione sembra molto fresco in realtà è una camicetta poi bellissimo far vedere le cose tutte nere che non si capisce mai come sono fatte e ha le maniche molto svolazzanti un po' non so se avete presente lo stile delle camicie da bullying però questa è la versione elegantina nera ed è vedete più corta davanti e più lunga dietro quindi anche questa me la posso mettere dentro ai jeans a vita alta io ho praticamente quasi tutto a vita alta questa qui sempre nera addirittura le braccia di fuori io non mi permetto di andare in giro con le braccia di fuori da penso una decina di anni forse anche anche prima mi dava già fastidio perché se c'è una cosa che io odio sono le mie braccia mamma mia ragazzi se mi dicessero cambia qualcosa adesso istantaneo vi direi le braccia io mi faccio tanti problemi so che è sbagliato so che magari mi scriverete non dovresti però vabbè è una cosa che dà fastidio a me non che gli altri pensano che sia brutta mi dà proprio fastidio a me quindi evito di metterle per me comunque ho pensato di metterla con un pantalone che ho preso e con magari una maglia sotto ti metti una t-shirt bianca così ti copre qua e via però mi piaceva un sacco lo stile vedete è super super larga in realtà la potete mettere anche con i leggings così quindi ci sta e anche questa 14,99 tra l'altro ho preso l'M perché questa è veramente gigante se la trovate questo qua è il pantalone del completo della maglia con la scollata che in realtà è un pantalone molto semplice perché è così sempre della tuta con l'elastico in vita e poi scende abbastanza scampanato vedete e anche di questo ho preso un L così sta bello largo in realtà in generale delle parti sotto della tuta prendo sempre le L che non mi piace quando mi fa l'effetto leggings perché sennò mi mettevo un leggings capito comunque anche questo 14,99 è questo qua la sagra del nero e del 14,99 amaruf non si scolla mai detto ciò adesso mi butterò sul letto ragazzi perché oggi ho finito di cenare veramente tardi tardi perché io poi quando mi impunto è la fine quindi ho preso il calamaro ma l'ho dovuto cucinare non alla griglia e ci metti 5 minuti ma l'ho fatto con il sugo e i piselli quindi ci sono dovuta stare almeno una mezz'oretta vabbè sono tipo le 10 ma fa niente e basta questo era lo shopping comunque ero qui a vedere il mio show e ho letto il messaggio di una ragazza sui direct quindi volevo aprire un attimo questa parentesi spero di non prolungarmi troppo perché io poi parlo parlo mi perdo non mi capisco vabbè praticamente questa ragazza mi ha scritto ti ci vede troppo in uno di questi gruppi a menes e quindi mi sono posta la domanda pensate se in Italia esistessero questo perché non esiste cioè un gruppo tipo femminile la blackpink non esiste in Italia giusto non c'è e penso che se mi proponessero una cosa del genere accetterei vabbè a me piace a me piace un sacco cantare mi piace tanto ballare da piccola ho fatto dieci anni di danza tra hip hop classica anzi ho fatto un po' di tutto mi piacerebbe tanto allo stesso tempo penso sia una vita di tante rinunce perché adesso tipo il BTS ad esempio il più grande Jin ha 28 anni 29 insomma ne ha meno di 30 il più piccolo che è Jongwoo ne ha 24 perché ha un anno in più di me ed è assurdo come in realtà abbiano tutto ma non abbiano nulla perché una vita normale non ce l'hanno stanno sempre sbattuti da una parte all'altra e credo questi ragazzi vengano spremuti fino al midollo io mi ricordo quando seguivo One Direction e mi ricordo i loro periodi tra virgolette bui dove si vedeva proprio che erano al limite di quello che potevano fare di quello che potevano dare per quanto uno provi a dare il 110.000% ma c'è un limite cioè siamo umani nel senso a un certo punto uno si stanca e inevitabilmente poi i gruppi infatti finiscono loro vanno avanti in realtà da parecchio tempo sette anni sono tanti ho visto dei video anche loro dove erano veramente stanchi dove erano veramente a pezzi ma penso che in Corea abbiano una forza particolare perché se no non me ne capacito veramente sono molto determinati però la cosa assurda è che tipo noi nei One Direction ad esempio eravamo abituati a vederli fidanzati poi c'erano i fan pazze che ancora io devo capire per quale motivo fanno così e penso ci sia ancora gente che fa così che pensa che il suo idolo sia intoccabile che sia in realtà poi fidanzato con loro effettivamente quando in realtà è un ragazzo normalissimo che si merita l'amore anzi bisognerebbe essere solo che felici quando trovano qualcuno che può amarli in maniera ravvicinata diciamo non so come altro spiegarmi e la cosa è che mi sembra assurda perché noi dei One D conosciamo le fidanzate sapevamo che Zayn era fidanzato con Perry tra i Little Mix vi ricordate sapevamo la fidanzata di Lewis insomma invece nella cultura coreana non ho mai visto finora almeno poi se esistono chiedo Venia ma io non li ho mai visti ripeto idol cantanti questi ragazzi dei gruppi ma anche le femmine mai fidanzati eppure il più grande che è Jin appunto che ha 28-29 anni secondo voi in questi 7 anni non hai mai avuto una relazione cioè posso capire che non hai tempo che c'hai sbatti per carità divina però sei sempre un ragazzo di 20 anni qualcosa dovrei pur fare no cioè parlando proprio papale papale mi sembra veramente assurdo che non abbiano modo di frequentare qualcuno quindi o verrà fuori a un certo punto guarda in realtà siamo fidanzati da 8 anni ma non l'avete mai saputo oppure guarda in realtà sono addirittura spoltato ma non l'avete mai saputo non me ne capacito ma non perché ovviamente siano dei bei ragazzi quella è una cosa che non metto assolutamente in dubbio cioè ditemi se c'è anche se non mezzo il ragazzo coreano che non è figo non lo so poi sarò io che ho questo genere di gusti quindi li vedo tutti belli però già solo nei BTS cioè io andrei a cena fuori volentieri con tutti con tutti e sette a nessuno escluso quindi mi lascia perplessa questa cosa veramente cioè o c'è tipo qualcuno ai vertici che insabbia tutto o che gli ha proprio fatto firmare un contratto dove dice guarda se ti becchiamo con qualcuno o se fai uscire qualche scandalo romantico sei finito sei fuori sei out hanno così paura che non muovono neanche mezzo muscolo in più li vedo sempre impacciati i coreani quando hanno una ragazza vicina se invece si tratta di dover fare facce smorfie ammiccamenti a cose eccetera si riescono benissimo tipo dei BTS la mia classifica dei più dei più sensuali dei più sexy parte con V io non ho mai visto nessuno che flerta come fa lui ma ripeto è un flertare a distanza anche con le fan ho visto certi video vi giuro mi hanno messo i brividi dico ma va caldo qui dentro oppure c'è qualcosa di strano dopodiché io metto Jimin ragazzi perché non so che cosa fanno con quegli occhi è assurdo poi ovviamente Jungkook non lo metto per primo perché a volte è super timidino e tu non lo diresti mai perché poi ti fa certe cose sul palco che dici vabbè ok chiudo cioè è ora di chiudere poi sono molto indecisa se mettere J-Hope oppure Nanjoon che mi viene più facile pronunciare Nanjoon che Erhem poi Suga perché Suga lo vedo troppo me quindi mi fa quasi senso parlarne Jin mi dispiace ma non mi trasmette sensualità potrebbe essere il mio migliore amico ma non altro e quindi non lo so fatemi sapere anche voi cosa ne pensate secondo me veramente potrebbero essere già tutti belli fidanzati sposati accasati e noi non lo sapremo mai o meglio lo sapremo tra magari qualche anno poi metteteci il fatto che in Corea c'è ancora il militare obbligatorio insomma il loro militare non so come spiegarmi tant'è che quando ho parlato di andare a un loro concerto tra uno o due anni quando si potranno rifarli molti mi hanno detto sì ma penso che per vederli di nuovo tutti e sette bisognerà aspettare un bel po' di anni tant'è che io ho detto perché Suga si è già operato alla spalla che c'è qualche altra operazione non programmata che non so no no è che adesso poi cominciano a schierarli con tutti i vari militari domande così sono domande che mi sono poste in questi giorni e che non non ho a cui non ho avuto risposta semplicemente non l'ho cercata proprio quindi tornando alla domanda principale che era se me lo proponessero starei in uno di questi gruppi direi sì nonostante i sacrifici nonostante le rinunce nonostante perché poi penso che quando stai su quel palco e vedi la gente che ti acclama canta le tue canzoni ti sorride ti ama incondizionatamente ride con te penso debba essere una bella sensazione a volte vorrei essere invisibile e avere il teletrasporto per poter stare su quel palco e vedere effettivamente quello che si vede quello che si prova stando stando lì se potessi esprimere un desiderio penso sarebbe quello di farmi un concerto sul palco fate tutto voi cioè voi cantate ballate io semplicemente passeggio lì sul palco e mi godono la la cosa sarebbe finissimo niente detto ciò ho blaterato abbastanza penso che per oggi mi abbiate già odiata però veramente questa cosa della Corea mi sta prendendo particolarmente non mi appassionavo a qualcosa da tanti anni ed è come se effettivamente mi mancasse un pezzo adesso togliendo questa situazione pandemia che ovviamente non non ci ha reso le cose più facili anzi però mi ha proprio risvegliato quell'emozione che non provavo più da tanto tempo e sembra una cavolata perché dici sono dei ragazzi in uno schermo però tra le canzoni tra appunto questi run BTS non ridevo così sinceramente da tanto è poco che li seguo ma già li devo ringraziare per per questo a parte a parte tutto adesso tutte le cose eccetera eccetera perché molto spesso fanno più queste persone che magari chi ti sta intorno realmente che un po' non ti capisci un po' non ha il tempo e il modo per capirti no e in qualche modo io tramite loro mi sono sentita capita e probabilmente è una cosa che sarà capitata a tanti di voi quindi non è un semplice fangerlare è semplicemente ritrovarsi in qualcosa che anche se non ti appartiene in qualche modo lo senti tuo sto diventando troppo filosofica sarà che tra un po' faccio 23 anni ragazzi e sarà che non aver fatto tutte queste grandi esperienze nella vita non è che mi terrorizza perché penso sempre che ci sia il tempo per fare tutto nessuno deve correre o stare dietro a stereotipi di nessun tipo io ve l'ho sempre detto molto tranquillamente nonostante ci sia gente che rimane ancora sconvolta come se veramente avessi non lo so ucciso qualcuno quando racconto alle persone che ho 23 anni e non ho mai avuto un fidanzato non ho mai avuto un ragazzo rimangono tutti sconvolti come per dire ma che cos'è che non va niente semplicemente io non mi accontento del primo che passa non ho bisogno di qualcuno al mio fianco almeno adesso se dovesse arrivare bene altrimenti pazienza ce ne faremo una ragione però non la vedo come l'obiettivo cioè se trovi qualcuno nel percorso della tua vita ok però non è l'obiettivo avere qualcuno come le persone che dicono ho trovato la mia metà io è una cosa che non capisco perché tu dovresti già essere un totale già da solo tu dovresti lavorare sulla tua persona e renderti completo poi se arriva qualcuno che riesce ad introdurre nel tuo mondo qualcosa in più che quindi ti dà quel qualcosa in più allora è lì che vale la pena stare con quella persona e viversela altrimenti boh non credo abbia senso ho avuto nella mia vita anche in passato amiche che dovevano per forza stare con qualcuno dovevano per forza essere fidanzate perché altrimenti non erano nulla e mi dispiace e mi dispiaceva per loro al tempo quindi è veramente una cosa che probabilmente io non capirò mai sento che anche non lo so quando parlo con le mie amiche le persone mi dicono i loro problemi no perché il mio fidanzato ha fatto questo perché sai così così sento un po' che mi manca quel tassello dell'esperienza quindi sei là che fai ah sì sì ok non ho capito ho capito ho capito e poi in realtà magari dai meglio consigli tu che non hai mai vissuto niente che gli altri non si sa mai sì anche vedere e sentire le loro canzoni che parlano d'amore per quello che vi dico che mi puzza come cosa il fatto che non siano mai stati con nessuna in passato o attualmente perché non puoi scrivere secondo me non puoi scrivere dell'amore se non l'hai vissuto come qualsiasi poesia come qualsiasi romanzo cioè se io mi dovessi mettere a scrivere qualcosa sull'amore sì però non arriverebbe così incisiva come se lo facesse qualcuno che invece l'ha vissuto spero di essermi spiegata perché mi sto sentando un po' ridicola a parlare di queste cose alle 11 di sera da sola sul letto con un'immagine di BTS che non vi dico come l'ho fermata su questo schermo quindi non riesco neanche a stare molto seria io mi reputo una persona molto bislacca perché ho veramente due facciate però non lo faccio neanche apposta nel senso sono molto scherzosa molto solare divertente me lo dico da sola che sono divertente quanto poi il tutto però è controbilanciato con la mia parte seria la mia parte matura la mia parte un po' più da vecchia molte volte vengo definita vecchia o la mammina del gruppo tipo quella che placa gli animi tipo stasera parti usciamo no no io sto a casa non escono quindi vedremo ragazzi come si evolverà questa vita in realtà io vorrei aprire un canale filosofico dove parlo solo della vita sarebbe stupendo invece io non mi chiuderei penso ci parlerei per ore per ore per ore dovrei fare qualche diretta tipo su twitch sapete quelle cose che vanno adesso perché a me piace confrontarmi anche con chi ne sa più di me mi piace imparare cose nuove mi piace tanto imparare come in questo caso delle altre culture e non avere la mente chiusa quindi niente questo è l'augurio che faccio anche a voi spero che non abbiate la mente chiusa e che vi piaccia imparare nuove cose sulle persone sul mondo sul cibo non lo so su quello vi pare detto ciò spero questo vlog vi sia piaciuto io vi mando un bacio gigantesco e speriamo di verci presto con un altro vlog questo è venuto bello lungo quindi godetevelo se siete arrivati fino a qua scrivetemelo nei commenti hashtag Ilaria Filosofica poi non lo so perché la sera divento così ragazzi mi si accendono mille pensieri infatti poi perché vai a dormire alle 3 alle 4 di notte perché ho mille pensieri nella testa uno pensa questo non fa niente tutto il giorno ho mille pensieri anche se non li vedete sono qui e niente mi mando ancora un bacio grande e ci vediamo presto ciao